Benvenuti a tutti membri della Galassia del Nord, oggi siamo qui con un nuovo video sul manga di Black Clover. Parleremo dei capitoli 363 e 364, in via del tutto eccezionale. Questo poiché quando è uscito il capitolo 363 ero in vacanza e poi in secondo luogo non c'era troppo da dire. Mi sembrava di essere tornati ai tempi della lotta contro Lucifero, dove alcuni miei video duravano 4 o 5 minuti, proprio se aggiungevo un sacco di roba. Quindi ho detto, per evitare e per fare un video un po' più corposo e interessante, associamo questi due capitoli. Non ci sono particolari novità sulla serie, io come al solito vi invito a passare in descrizione per vedere tutti i social, sia miei che di Black Clover-Italia. Se ve lo foste perso, ho fatto un video sul film di Black Clover e niente, cominciamo con il video. Ditemi cosa volete, ma per me il capitolo 363 è stato tagliato in qualche modo, cioè non doveva essere così corto. Sappiamo che la settimana dopo c'è stata pausa del manga sulla rivista, perché Tabata ha avuto dei problemi familiari legati alla salute della moglie, e quindi facendo 2 più 2, secondo me è stato questo il motivo. Comunque sia, la scorsa volta eravamo rimasti al discorso di Mimosa e di Marcus per motivare coloro che stavano combattendo e i cittadini di Clover. Intanto, alla foresta delle streghe, Vanessa, Dorothy e la regina delle streghe, insieme a Finral ed altre streghe minori, stavano cercando di eseguire un incantesimo volto ad individuare ed evocare Asta. Però ad ostacolare l'incantesimo arrivano alcuni paladini generici, guidati da Damnatio, anch'esso un paladino. Ebbene, nel 363, Lucius fa notare a Yuno quanto il suo gruppo sia ossessionato da Asta. Effettivamente, sono 3 capitoli che ce la menano di lì. Se Yuno è il protagonista, Asta è lo scrittore. Se Yuno riesce a carriare tutti gli altri da solo con Neverland, Asta li motiva pur non essendo sul campo di battaglia. In questo momento, Asta e Yuno si completano. Lucius però afferma di aver già provveduto a bloccare un ipotetico ritorno di Asta, essendo che il futuro nella foresta delle streghe si stava destabilizzando, e di conseguenza ha pensato bene di mandarci Damnatio, cosa che tra l'altro era già successa col Sollevante, ovvero quando Lucius decise di mandare lì Lili, Hit e Irul, si chiamava. E anche allora la causa era Asta, a quanto pare. Alcune streghe provano a contrastare Damnatio, che blocca gli incantesimi grazie alla sua magia di bilancia. E a detta sua, ora che è un paladino, la giustizia è sempre dalla sua parte. Le bilance sposteranno a suo favore ogni incantesimo. Ci spostiamo poi su Yami e Morgan. Morgan propone a Yami di rinascere e proteggere il regno insieme, ancora una volta come i vecchi tempi. Aciere e Morgan stanno facendo offerte allettanti ai loro cari, devo dire. Tuttavia hanno incontrato entrambi chi si oppone ad esse. Yami ricorda che nel Cervo Grigio il suo capo era Julius e non Lucius, quindi di certo non farà parte del suo stesso gruppo. Inoltre Yami afferma che attualmente lui ha il Toro Nero, ricordando anche quello che lui e Morgan si dissero tempo prima, ovvero che Yami avesse buon occhio per le persone. Ed è in questo momento che quella cosa va provata. Torniamo dunque alla Foresta delle Streghe, dove i paladini provano a colpire l'albero dove si sta svolgendo l'incantesimo. Zora usa la sua magia di cenere per respingere l'incantesimo e subito dopo il Toro Nero si mostra sul campo di battaglia per affrontare i nemici. Fine capitolo, come possiamo notare non è che sia successo granché e di conseguenza passiamo al 364. Secondo Nacht, Lucius ha fatto in modo di eliminare Asta prima del giorno del giudizio e quindi sostiene che per lui sia una sorta di counter, qualcosa che teme. Damnatio adesso è un ostacolo per evocare Asta ed è un grosso ostacolo in quanto ora dovrebbe essere più potente di un demone supremo. Ora, quale demone supremo non c'è lecito saperlo, probabilmente potevano, non lo so, mettere un'immagine per farci capire quale perché di demoni supremi noi non è che ne abbiamo visto uno, ne abbiamo visti tipo 4 o 5 e quindi niente, questo punto è da chiarificare. I membri del Toro Nero attaccano tutti insieme affrontando i vari paladini cercando di arrivare ad Amnatio nel mentre Henry e Gordon mirano a bloccare il nemico assorbendo il suo potere magico. Damnatio usa la spada di Mikael che prende il nome da un altro angelo della cabala esattamente come Sakiel di sorella Lily. Una bilancia senza spada è impotente, una spada senza bilancia è violenza. Una bilancia con una spada porta ordine. In altre parole, chi viene giudicato male dalla bilancia va ucciso con la spada. Discorso di Damnatio che ha un suo senso comunque. Damnatio così colpisce immediatamente Gordon e Henry con la sua spada il quale taglio forma una croce sulla base del Toro Nero. Gli altri membri del Toro Nero dunque subiscono gli effetti della magia e perdono parte del loro potere magico. Tuttavia continuano a fare del loro combo nonostante vengano colpiti o feriti. Si scagliano in attacchi suicidi senza pensare alle conseguenze. Questo perché, beh, Gosh sta duplicando Grey con il Mirage Brigade in modo che questa possa usare la magia di trasmutazione e curare i membri del Toro Nero. Damnatio così punta alla vera Grey che è stata nascosta dalla lana di Charmy per non essere scovata. L'uomo però riesce subito ad individuarla e prova così a colpirla con la spada di Mikael. Gosh cerca di difendere Grey ma entrambi vengono colpiti dalla spada. In questo modo finendo a tappeto in una pozza di sangue. Gosh gode proprio nell'essere ferito a morte e che questa sia l'occasione fatale lo scopriremo solo prossimamente. Vanessa non può usare Rouge per modificare il destino in quanto è impegnata con il portale. Grey è stata messa fuori gioco Gosh è fuori gioco. Gordon e Henry non sono riusciti nel loro compito e gli altri membri del Toro Nero vengono dunque feriti nuovamente da un ennesimo colpo di Damnatio. La base del Toro Nero si rompe e tutti cadono in un lago all'interno della foresta dove si preparano a continuare il combattimento anche con le ferite sanguinanti. Nero utilizza la magia di sigillo non so bene se è solo per curare i suoi compagni o anche per sigillare Gosh e Grey in modo che non muoiano però per quello che ci è stato mostrato finora la usa per curare i suoi compagni. Hasta chiede a Ryu che cosa stia succedendo il ragazzo è davvero preoccupato. Signori direi che la direzione che prenderà la storia è ben evidente a questo punto ovvero che il Toro Nero in questo capitolo stava prendendo tempo per far sì che l'incantesimo si compiesse senza alcun intoppo di conseguenza non appena l'incantesimo sarà completo con magari il sacrificio chissà di qualcuno del Toro Nero Hasta arriverà e affronterà Damnatio riuscendo a sconfiggerlo probabilmente. Nel frattempo potrebbero anche arrivare quelli del Regno di Diamond così fanno qualcosa in questo arco narrativo almeno dato che fino adesso sono stati praticamente quasi sempre assenti. Onestamente però non so se qualcuno del Toro Nero potrebbe seriamente morire. Poi comunque si tratta di Gosh e Grey in questo caso due personaggi che hanno qualcosa da dire. non sono mica personaggi come Harry un personaggio vuoto un personaggio fastidioso un personaggio che ogni volta che parla lo prenderei a puro. Comunque lasciatemi dire che il capitolo 364 in particolare ha dei disegni davvero spettacolari. Cioè Tabat ha fatto tipo 3 o 4 doppie pagine cioè fuori di testa. Ne è valsa la pena aspettare per due settimane perché questo capitolo è fuoco puro. Il 363 beh diciamo che esiste quindi lo teniamo però di per sé non è che ha portato a tanto. Quindi nulla queste sono le mie impressioni su questi due capitoli magari fatemi sapere la vostra nei commenti io vi lascio come al solito l'adeguato spazio per esprimervi e niente noi ci rivecchiamo alla prossima un saluto ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti